L'isola che non c'è, che non c'è, seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto sino al mattino, non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro, se continui a cercarla, ma non darti perdito perché, chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più patto di te. Grazie, che carini, grazie, grazie. Quanti casoncelli vi siete magnati, ragazzi? Casoncelli alla Bergamasca, molto buoni. Vai, dai, dai. Allora, io adesso ho un'altra carrellatina di messaggi, eh? Seguitemi velocemente, ragazzi. Numero 7, numero 33, numero 34, numero 134 e 135. Sono pregati di venire qua, venite qua voi, ragazzi, non li facciamo prima, dai. Fate due passi, smaltite un po' di casoncelli, tutto a posto. Allora, abbiamo il 134 e il 135, allora ce n'è uno che ne ha solo un mezzo, l'altro ce n'ha uno e mezzo. Ebbene, ho uno personale per il 134 e uno comune fra tutte e due. Quindi, non so, secondo me, se va bene, avete una donna e mezzo te e una mezzo te. Non so, poi, comunque, come vi chiamate? Mirko e tu? Andrea. Andrea e...